17 rapine, una statistica da record per Gaetano Di Francesco, 26enne palermitano rapinatore seriale, fermato proprio quando stava mettendo l'ultima tacca alla cintura. Dopo essere entrato nel supermercato Fortè del quartiere Cep di Palermo ha minacciato, armato di coltello, un impiegato facendosi consegnare l'intero incasso e fuggendo via a piedi. Era la nona volta che accadeva, sempre lo stesso supermercato. I poliziotti sono andati a casa sua e questa volta lo hanno bloccato mentre rincasava. 17 rapine, dicevamo, tra supermercati, farmacie e altri esercizi commerciali. Per tutte queste Di Francesco è stato indagato, tutto questo in soli due mesi. Lui ha già confessato ed è stato condotto al carcere Paiarelli. La polizia lo ha riconosciuto dagli abiti, gli stessi che aveva indossato poco prima durante la rapina e che sono stati immortalati dalle immagini del sistema di videosorveglianza. Nelle immagini non si vede un complice ma spesso l'uomo ha agito con l'aiuto di qualcun altro, qualcun altro che adesso è ricercato.